benvenuti o bentornati nel canale come vedete ho qui due borse quasi identiche in una c'è scritto dji mavic significa che dentro c'è il mavic air 2 nell'altra quasi identica c'è scritto solo dji significa che dentro c'è il mini 2 questo video vedremo come usare per chi possiede entrambi i droni un solo radiocomando per volare con entrambi e dunque per andare a fare una gita e portarsi dietro un solo radiocomando e entrambi i droni andiamo a vedere insieme qual è il procedimento semplicissimo vai le borse ovviamente ovviamente i droni i radiocomandi prima di iniziare tutto come sempre vi chiedo un semplice like qua sotto un clic che per voi è niente ma per me è importantissimo e mi fa capire che mi volete bene che apprezzate i contenuti che porto nel canale se non siete iscritti ovviamente ve lo dio sempre siete benvenuti prima di farvi vedere come usare un solo radiocomando dei due a scelta quella vi pare e volare con entrambi i droni air 2 mini 2 concedetemi una nota polemica sì perché siamo in una situazione veramente kafkiana scusate perché ci sono già tantissime polemiche su dji perché se ne sono usciti col mini 2 persone hanno da poco acquistato il mini 1 va bene ci sta tra parte può succedere e è giusto anche capire chi si lamenta di questa situazione ecco ragione perché ho appena acquistato il mini bene sono scelte di aziendali per cui non possiamo che commentare basta quello non si può accettare scusate ormai la polemica è in atto è che io possessore di un air 2 con un radiomando così mi fai acquistare anche il mini 2 con il radiomando io il radiomando non ne ho bisogno perché in teoria lo vedrete posso volare indipendentemente con uno dei due tranquillamente e dunque se mi fai acquistare il mini 2 già possiede questo drone dammi la possibilità di scegliere e di dire mi prendo solo il drone con le batterie il carico e batterie non prendo la radio che ne so risparmio 100 euro 150 80 insomma risparmio perché ce l'ho già ma questo non è accettabile non è capibile anche se con tutta sincerità vi dico che usare un unico radiomando con entrambi i droni è una figata pazzesca perché quando vai a giro quando li usi è senza dubbio utilissimo perché mi portiate solo i due droni e una radio sola e capite l'ingombro di una radio non è da poco bene scusate tre minuti soliti miei polemica e spero condividiate e iniziamo subito apriamo tutto e vai bene ci siamo sono tutti qua di stessi vedete il mini 2 l'air 2 e loro radiocomandi veniamo a noi i radiocomandi dei due droni sono in pratica uguali questo è il radiocomando del mavic mini 2 o mini 2 ci metto sempre mavic davanti ma si chiama mini 2 a rispetto al al radiocomando del dell'air 2 il pulsante qua un po diverso c'è un pausa rosso c'è nella parte tripod sport e normal al posto di tripod si legge in questo caso cine che sarebbe cinematic e quando si va a accenderlo lui ovvero il radiocomando del mini 2 ha i led verdi invece quello del l'air 2 ha i led bianchi bene andiamo a questo punto a spengere la radio del mini 2 e facciamo una cosa io ho già configurato ovviamente ho già provato e finalmente adesso posso volare con un radiocomando solo posso scegliere quale dei due portarmi dietro mi porto dietro i due droni e un radiocomando e volo con entrambi è sufficiente fare una piccola operazione quando si va a spostarsi dall'uno all'altro per esempio e ora veniamo al dunque innanzitutto dovete vi arriverà un aggiornamento dell'air 2 del firmware dovete farlo obbligatoriamente perché se non fate questo aggiornamento non potrete beneficiare della possibilità di usare entrambi i radiocomandi indifferentemente uno o l'altro con i due droni dunque la prima cosa è aggiornare il firmware una volta aggiornato il firmware dell'air 2 possiamo vedere come procedere per usarne uno solo ovviamente mi dirrete ma è uno di me ne fa giusto una domanda giusta però purtroppo dgi non vende i droni separati con i radiocomandi e siamo costretti a averne due però quantomeno non mi sto a portare appresso due radiocomandi per far volare indipendentemente o l'uno o l'altro drone e a questo punto io avevo usato il radiocomando di air 2 con il mini 2 andiamo a vedere se io vado a accendere adesso il mio dgi mavic air 2 e vado ad avviare l'app dgi fly in pratica cosa succede se clicco su connetti al drone lui mi fa come sempre scegliere quale dei due droni voglio usare per volare io gli dico mavic air 2 ma siccome avevo volato con il mini con questo radiocomando lui ovviamente non lo trova e dice il radiocomando sta cercando il drone sta iniziando a cercare ovviamente il drone e mi dice non riesce a connettersi al drone no non riesco clicco semplicemente su questa eona lui mi dice preme per quattro secondi il portante d'accensione premo su connetti clicco uno due tre quattro sona fa il pairing e eccolo collegato a questo punto sto vedendo in pratica il mavic air 2 e sto usando il suo radiocomando con appunto il drone air 2 a questo punto facciamo l'inverso andiamo a spengere riavviamo ovviamente l'app e chiudiamo l'app a questo punto spostiamo il nostro air 2 prendiamo il mavic il mini 2 spostiamo il radiocomando del mini 2 e avviamo ovviamente il nostro mini 2 eccolo facciamoli fare l'avvio facciamo la stessa procedura andiamo adesso a avviare l'app di jfly da nuovo l'avevo chiuso ovviamente lui come al solito mi dice connette al drone io vado a connettermi al drone ma lui ricordiamoci è collegato con il mio air 2 sceglierò a questo punto dji mini 2 e come precedentemente sta cercando il radiocomando ma il radiocomando è quello dell'air 2 e ci avevo volato con lui infatti mi dice che non riesce a trovare il drone clicco su non riesce connetti come prima 1 2 3 4 eccolo qua perfetto drone perfettamente connesso avete visto in questa situazione io con il radiocomando originale di air 2 posso comandare indipendentemente sia air 2 che il mini 2 e dunque vi ripeto non è il massimo perché mi trovo comunque sempre sulla groppa il radiocomando di del piccolo mini ma che c'è di positivo è che come vi ho detto posso uscire posso andare a fare che ne so un escursione e con un radiocomando solo posso ovviamente guidarne entrambi e questa secondo me è una cosa molto interessante e utile soprattutto per chi vuol volare vuole andare a giro con più droni e portarsi appresso solo un radiocomando spero che questo video vi sia piaciuto che sia stato di vostro interesse soprattutto utile ci vediamo alla prossima seguitemi nei miei profili instagram facebook ma anche nel canale telegram ovviamente le foto che posto le mie giornate la mia quotidianità la trovate in questi social dunque seguitemi se vi va mi metto i link ovviamente di questi droni qua sotto in descrizione se decidete di acquistarli se lo farete tramite i miei link aiuterete il canale di big net rimanere in piedi perché solo di questo mi nutro per tenerlo in piedi grazie a tutti ci vediamo alla prossima con un nuovo video spero interessante dalla toscana ciao ciao